Puntata davvero speciale, quella dell'occhio di Abate di venerdì 19 giugno in un orario insolito alle 23.15, ma la replica poi è domenica alle 14.30, ci sono esigenze di palinsesto, c'è il torneo di calcio giovanile dedicato a Gaetano Scirea, la memoria di Gaetano Scirea e quindi ben volentieri lasciamo il posto per qualche ora. Una puntata ricca, ricchissima, parleremo di equilibri politici, dei nuovi assetti politici, ma analizzeremo il sistema Taranto, considerando il ruolo dell'amministrazione comunale, quindi parleremo di ambiente, di bonifiche, di occupazione, parleremo di immigrati, insomma un piatto davvero ricco, con Maurizio Baccaro, coordinatore provinciale di SEL, con il professor Angelo Fiore, coordinatore provinciale di Popolari e Liberali, con l'ingegner Bartolomeo Lucarelli del meetup Taras in movimento e Dulcis in fondo, last but not least, Lucio Lonuce, vice sindaco di Taranto e assessore comunale ai lavori pubblici. Non vi resta che guardarci, sempre con voi, sempre con i cittadini.